Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di finanza decentralizzata e stiamo all'interno di Anchor. Questo perché, mentre nell'ultimo video di Anchor vi ho fatto vedere il lato Earn, mentre in quest'altro video ho fatto vedere due piattaforme, cioè Aave e Abracadabra, per poter prendere appunto in prestito per fare Borrow con le proprie criptovalute, anche se su Abracadabra ovviamente ci ritorneremo in un altro video. Quindi rimanete sintonizzati al canale, iscrivendovi e cliccando sulla bellissima e famosissima campanella delle notifiche. Adesso però ci concentriamo su Anchor e su Nexus Protocol, che è una piattaforma molto interessante nell'ecosistema Terra che apprezzo. Questo perché, come possiamo vedere qua, che siamo in testnet ragazzi, siamo in testnet, il net APR ci dà il 16,15%, che è falso. Questo perché nella mainnet, che è quello che conta, rasentiamo lo zero, siamo a un zero virgola niente praticamente, e quindi non è più utile fare farm per quanto riguarda Borrowing all'interno di Anchor, ma ci viene in aiuto Nexus Protocol che adesso vedremo. Comunque, innanzitutto, quello che era Anchor si può prendere collaterale con Bonded Ethereum e Bonded Luna, e oggi ci concentreremo su Luna. Tanto Ethereum, se clicchiamo su Get it, ci trasferisce sulla pagina di Lido, questo perché in Lido, se leviamo appunto qua Anchor, qui possiamo andare a mettere in staking Ethereum, e con gli Ethereum messi in staking su Lido ci danno STETH, cioè Staked Ethereum, e quelli qua li faremo diventare Bonded Ethereum, e questi Bonded Ethereum li portiamo su Anchor per poter appunto avere un prestito. Con Bonded Luna è praticamente lo stesso, li possiamo anche direttamente swappare su TerraSwap, e andare a provvedere la liquidità. Ma ci concentreremo su Nexus Protocol, questo perché ottimizza quello che è appunto il farming su Borrowing e Earn in Anchor Protocol, anche perché ottimizza per bene tutti i Lonto Value, eccetera. Lo automatizza con il protocollo, con i vari smart contract che ha appunto questo Nexus Protocol. Quindi adesso andiamo sulla pagina, e come potete notare, sul Vault, che è quello che adesso ci concentriamo, vediamo che c'è Bonded Luna e Bonded Ethereum, proprio gli stessi di Anchor. Questo perché appunto fa questo gioco. Lui ottimizza e ci dona, tra virgolette ci riporta, quello che fa lui su Anchor, tramite il Borrowing e Learn, in modo ottimizzato. Ma le ricompense, come EPR, non EPI, attenzione, abbiamo un 8,36%, e le ricompense ce le dà in PSI. Ok? PSI, che è la moneta appunto di Nexus Protocol, è la moneta di governance di questo protocollo. Ok? Adesso però andiamo sulla testnet, e andiamo a capire un po' meglio come funziona. Innanzitutto, dovremmo andare a depositare i nostri Bonded Luna. Li posizioniamo ad esempio 200. Questa tanto è una prova. Ovviamente qualche valore sarà diverso rispetto alle testnet e la mainnet, per esempio qualche PR, qualche valore dei prezzi dei token, eccetera. Però il procedimento sarà lo stesso. In questo istante abbiamo messo i nostri Bonded, 200 Bonded Luna a reddito, tra virgolette, con un 8,38% di APR, che ci dà in PSI. Che dobbiamo fare? Innanzitutto vi voglio far vedere che noi abbiamo dato sì Bonded Luna, ma abbiamo ottenuto in cambio 200 N Luna. Ok? La versione liquida di questo Volt. Ok? Che se noi andiamo un attimo a controllare su Farm, possiamo vedere che c'è un interessantissimo N Luna PSI, che non ci fa vedere qua, che però, vi posso dire, l'ho appena controllato, sulla mainnet ci dà il 158% di APR. Adesso non so se in questo istante anche per te sarà lo stesso, mentre Ethereum è il 202%, mentre questo è leggermente più basso, mi sembra 130-132% di APR. Comunque sono ottimi le percentuale, anche perché calcolando che sono in APR, infatti se andiamo a fare, giusto per farvi capire la differenza, se andiamo in APR Calculator e mettiamo anche solo il 100% daily, diventa un 171% di API. Ok? Quindi un 158 diventa, facendo tutti i giorni compounding, quindi immettendo quello che abbiamo guadagnato all'interno della pool, insomma, diventa un 383% di API. Quindi APR ed API sono due cose ben distinte. Ok? Però, quindi ottimo. Che succede però? Dobbiamo dare 50% e 50% dei due, quindi dobbiamo dare su swap. Attenzione però, grande campanellina d'allarme. Una volta che andremo a fare questo swap e quindi che metteremo i nostri Luna, i nostri N Luna e i nostri PSI all'interno di questa farm, stiamo sì accettando di prendere questo 158% di APR, ma non potremmo andare a riprendere qua i nostri bonded Luna. Ok? Questa è una cosa importante. Quindi abbiamo sì una grande opportunità perché è una cosa che su Anchor non c'è. Noi andremo a guadagnare potenzialmente praticamente ormai nulla su Anchor. Mentre qua potenzialmente c'è una grande possibilità, abbiamo un 158% di APR e un 202% con Ethereum, ma ovviamente c'è l'impermanent loss, no? Siccome c'è PSI e Luna, sono due asset volatili. Questo non dico che è gambling, però ovviamente non è come mettere degli UST su Anchor e prendere il 19%, ok? Anche perché abbiamo, come abbiamo visto, potenzialmente il 300% di API qua, ok? Detto ciò, quello che dovremmo fare è andare a prendere i nostri N Luna, fare max, e ovviamente non swapparli tutti, ma fare metà e metà. Fare metà e metà. E una volta che faremo metà e metà, ragazzi, come ho detto, i nostri Bonded Luna non potremo più ritirarli perché saranno praticamente trasformati, trasferiti in questa pool. Ok? Quindi dobbiamo sperare che ovviamente PSI non vada a scendere malamente, ok? Perché se ci fosse un grandissimo dump del token verrebbe sbilanciato e ci sarebbe ovviamente in permanente loss. Quindi sta a noi. Non bisogna mettere tutti i nostri Luna in questa pool, ragazzi. E non dico che gambling, ma ovviamente è per ottimizzare i nostri investimenti. Nella DeFi ci sono tantissime opportunità, ma ci sono anche tanti rischi. È giusto che lo sappiate. Detto ciò, quello che dobbiamo fare adesso è andare a swappare. Immettere la nostra password. Adesso che aspettiamo, attendiamo con impazienza. Perfetto. Dovremmo andare a fare farm. Facciamo max. Ok, questa cosa nella mainnet non c'è. Qui ci dice che è nel Luna. Il prezzo è 53, è differente da Biluna. Ovviamente sulla mainnet non è così. Non sono tranquillamente proprio praticamente uno ad uno. Quindi non c'è da preoccuparsi su questo. Vabbè, allora facciamo max su PSI. Perfetto, confermiamo. Dobbiamo mettere la password. Fa broadcast e adesso ci siamo. Adesso se andiamo a aggiornare la pagina possiamo vedere che abbiamo 98,71 N Luna e 33.000 PSI che stanno generando i reward e abbiamo già guadagnato 21.59 PSI. Noi poi andremo a fare claim. Ogni giorno quello che guadagniamo poi dipende quanto ci mettiamo noi e i soldi. Quindi se facciamo claim ok, una volta fatto claim andiamo a rimettere questi reward giusto per farvi vedere. Dovremmo fare questo qua dovremmo rimettere gli asset ok, all'interno della pool quindi dovremmo fare farm e dobbiamo mettere sempre 50 e 50. Noi in questo caso abbiamo veramente pochissimi asset quindi manco quasi vale la pena però una volta che è abbastanza metti caso noi non abbiamo più N Luna ovviamente dobbiamo andare sullo swap fare PSI e scambiarli un po' con N Luna fare sempre metà e metà perché dobbiamo mettere in questa pool 50 e 50. Abbiamo già guadagnato 1.31 PSI quindi comunque non è male però insomma occhio. Quindi questo era Nexus Protocol questo è come un ottimizzatore di rendimenti e come possiamo vedere noi non abbiamo più niente ci è rimasto 1.29 Luna vabbè proprio quegli scarti che rimangono non abbiamo più niente praticamente è rimasto e non è nulla da aver paura per poi ritornare indietro ragazzi cioè dovremo fare Withdrawal ovviamente copiare questo numero trasformarlo qua trasportarlo qua fare conferma abbiamo fatto Withdrawal dobbiamo andare a far trasformare tutti i nostri PSI in N Luna quindi andiamo a swappare bene una volta che abbiamo swappato i nostri PSI in Luna in N Luna andremo a rifare il claim all'interno del Volt infatti come possiamo vedere qua abbiamo i nostri 197 bonded Luna dovremo fare Withdrawal Max e via nel caso non vogliamo fare questo processo possiamo direttamente andare su Terra Swap e N Luna e via quindi non è così complicato quindi è una cosa molto interessante ovviamente qua mentre qua invece su Anchor ragazzi mettevamo i nostri bonded Luna metti che li vogliamo mettere 300 ad esempio che non prenderemo ovviamente l'equivalente di prestito perché ci deve stare il long to value ma adesso vediamo una volta che abbiamo messo i nostri bonded Luna dobbiamo andare a prendere il prestito quindi dovremmo fare borrow noi ovviamente abbiamo messo un tot ok guarda vi faccio vedere noi abbiamo messo 300 bonded Luna ok che hanno un valore questi 300 di 12600 dollari ok perfetto quello che dobbiamo andare a fare noi è il collaterale ok è di 12600 dollari in bonded Luna ovviamente noi possiamo prendere quello che noi adesso sta a noi decidere la percentuale di quello che andiamo a prendere quello che si consiglia soprattutto su questi su queste monete così è di prenderle circa del 30% giù di lì quindi noi metti che vogliamo prendere non lo so 4000 che è un 31.75% vogliamo 4000 è un esempio perfetto adesso noi abbiamo con il 31.71% di long to value abbiamo preso in prestito 4000 dollari che ci costano ok nella testnet 8,69% nella mainnet attenzione che costano veramente tanto costano circa 25% ok e intanto ci da la distribuzione in IPR sempre del 25% in ANC quindi riceveremo tra virgolette in airdrop come distribuzione il token ANC ok token ANC che poi andremo molto probabilmente a swappare per UST o per per sempre per Luna quello poi sta a noi decidere o questi 4000 dollari che possiamo farci beh sono dollari quindi possiamo potenzialmente fare quello che vogliamo ovviamente dobbiamo stare attenti al prezzo di Luna perché se il prezzo di Luna dampa di tanto noi rischiamo veramente veramente tanto non deve dampare della metà ok detto sinceramente non lo prenderei mai neanche al 31% io penso che lo prenderei con poi dipende da noi dipende pure dal nostro fegato da quanto possiamo perdere eccetera io penso che il 25% prenderei con Luna ok in realtà con un altcoin in generale penso 30-25% massimo per fare per ripagare ovviamente dovremmo fare repay fare massimo e via procedere ovviamente questo qua è quanto noi lasciamo quanto noi vogliamo pagare e quanto vogliamo lasciare questo soprattutto quando magari c'è un dump di Luna vogliamo un attimo che ne so rimettere 1000 dollari cose così con questi dollari possiamo farci quello che ci pare potremmo andare a fare altri investimenti potremmo metterli in qualche in earn che ne so molto probabilmente o qualsiasi altra cosa potremmo comprare bitcoin e niente questo era ovviamente se uno vuole ottimizzare per bene l'APR l'API va direttamente su Nexus Protocol perché è nato per questo ovviamente c'è del rischio associato al token PSI questo sia chiaro ok questo era il video che volevo farvi vedere su Anchor e su Nexus Protocol che è sicuramente interessante e ho iniziato a utilizzare ma sinceramente io ci sono entrato proprio con con un dito praticamente non ci ho dato manco tutta la mano però insomma è giusto divertirsi e studiare per bene quello che ci offre la finanza decentralizzata e via dicendo ok spero che il video ti possa essere stato utile spero che hai imparato qualcosa e hai magari se avevi già tocchiato questa piattaforma magari questo video ti ha aiutato a capire un po' di più come funzionava e i vari passi da fare in tal caso lasciami un bel mi piace che mi fai sempre contento iscriviti al canale ovviamente come ti ho detto prima clicca sulla campanellina ok per rimanere aggiornato su tutto il mondo cripto e bitcoin e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao